Io sono Vittoria e ho 13 anni. Io sono Carola, ho 11 anni. Durante la quarantena abbiamo deciso di provare a palleggiare da un terrazzo all'altro. Ma non pensavamo che questo video potesse avere così tanto successo. Il mio giocatore preferito è Federer perché mi piace molto come sta in campo. È sempre concentrato. Se incontrassi Federer o gli salterei tipo addosso oppure rimarrei un po' imbambolata. Sì, però per chiedere gli autografi a Federer devi fare il segno. Tu non sai parlare lo svizzero. Se dovessi prendere ad esempio un colpo da Roger, credo che prenderei il suo rovescio. Vorrei avere l'eleganza di Federer nel gioco, però la forza di Nadal. Sì che Nadal e Federer sono due nemici comunque. Sì, però hanno anche un'amicizia tra loro. Tutte le volte che si sono giocati contro. Ciao, Carola già Vittoria. Come stai? Non ci possiamo prendere. C'è Federer sul nostro terrazzo. Shall we play it or no? Gioca tennis con noi. C'è incredibile. Io sveglio. No, no! C'è Federer sul nostro terrazzo. Quello forte! Ragazzi, questa qua è la rachetta di Federer. E questo è Federer! Stiamo andando a giocare con Federer, me lo giuro. Non ci credo. Shall we have some fun? Ready to play? Yeah? Here we go. It's amazing here on the rooftop. All right, here we go. Let's have some fun. Let's have some fun. All right! All right! All right! All right! Let's have some fun fun. Personally, for me, that was a very special moment in my career as a tennis player, to surprise a fan or children like I was able to with Carola and Vittoria today. It was great, and I've played in many cool places around the world, but this one is definitely up there for me as a special experience. It showed that we can play it anywhere and have fun with it, so I had the best time, honestly. I swear to you, it's true, it's not a manichino, we swear to you. No, a manichino. Ciao Carola and Vittoria, it's Roger here, and surprises are not over yet. I happen to know a really good summer camp that is maybe perfect for you two girls, and I have spoken to the Rafa Nadal Academy, and Beryl and I would like to send you there, so why don't you start packing? Enjoy it! Ciao!